Il Presidente Cassini sull'ordine dei lavori? Il Presidente Cassini ha chiesto la parola? Signor Presidente, so bene che sarà il Presidente della Camera nelle prossime ore, nei prossimi giorni, a fare una commemorazione ufficiale, come è giusto, di una grande personalità, che ha onorato la Repubblica, le istituzioni, il Governo del Paese. Ma io, per l'amicizia personale che ho avuto nei confronti suoi, e anche per l'intensità del rapporto che egli ha avuto con tanti di noi, soprattutto i deputati della sua Regione, ritengo che sia doveroso che, poche ore dopo la sua scomparsa, questa mattina non si è risvegliato dal suo sonno, noi ricordiamo con sobrietà, ma magari con un minuto di silenzio, una personalità come quella di Remo Gaspari. Un grande democristiano che ha onorato le istituzioni e la Repubblica. In un momento in cui la classe politica viene definita casta, credo che Gaspari sia un esempio di lealtà, onestà e pulizia per tutti noi. Invito l'Aula a rispettare un minuto di silenzio. Grazie. 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 Grazie.